No, sicuro, subito, subito, lì, allunga di più i colpi. Sempre su con le mani, Alex, anche quando ti allontani, quello tira le bordate da lontano anche. Vai, subito, non ti fermare dopo l'esecuzione, subito, guardingo, dai. Gira bene i colpi, subito, 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 allunga di più i colpi. E subito, rientra lì, e lì devi rientrare, subito, dopo che hai schivato, devi rientrare subito. Rientra. Dai Alex. Subito col destro, lì, lì ci sta il destro, in alto. Il destro diretto, lungo, bello, steso, dai. Subito, 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 subito. Subito, lì, subito. Vai, testa bassa, non fare tante rotazioni col corpo. Vai, lì, lavora sui diretti, con i diretti lo prendi sempre. Stop, stop.